Ma è un bel complimento che ci fa fatto da un grande giocatore, penso che quello che ha detto Ibrahimovic lo pensino in tanti, se lo chiedete a Suarez penso che possa dire la stessa cosa, se lo chiedete a qualche altro grande giocatore penso che dica la stessa cosa, perché comunque è evidente che è stato fatto un grandissimo lavoro, solamente un cieco non lo può vedere. Ci tengo a precisare una cosa, può essere un punto di non arrivo da parte dei campioni, però ribadisco che il nostro è un campionato molto molto difficile da giocare, da vincere, e questo ci tengo a sottolinearlo, perché il campione italiano resta secondo me tra i più difficili in assoluto, a differenza di quelli stranieri. Poi per quello che riguarda il discorso dei top player, è inevitabile che i calciatori bravi vadano dove vengono pagati, non dico il giusto, però vengono strapagati e in questo momento in Italia ci sono poche squadre, forse nessuna, che può permettersi di pagare 8, 9, 10 milioni a un giocatore. Noi forse cominciamo il secondo scudetto quest'anno in due anni e sicuramente abbiamo fatto un percorso straordinario, abbiamo fatto qualcosa veramente, se accadrà di meraviglioso in un brevissimo tempo, è inevitabile che bisognerà migliorare, quindi ci aspettiamo poi miglioramenti.